Ciao ragazzi! Ciao! Noi siamo sullo Steinplat, la montagna di Vitering nel Tirolo austriaco, dove siamo arrivati due giorni fa. In questi due giorni abbiamo già fatto tantissime cose divertenti. Non so se avete avuto modo di seguirci su Instagram Stories, ma la prima sera siamo scesi con uno slittino in notturna. Lo slittino in legno, tipo quello del nonno di Heidi per intenderci. Sì, ed è stato divertentissimo. Ieri abbiamo fatto un po' di snowboard e anche questa mattina. Siamo abbastanza scarsini, eh? Tipo Fantozzi nel settimana bianca con Calboni e la signorina Silvani, tipo insomma. Dobbiamo migliorare assolutamente, però poi ci siamo rifatti dai con le ciaspole, quello è stato decisamente più facile. E oggi che cosa ci aspetta? Oggi faremo un po' di tiro con l'arco alla Robin Hood in versione invernale. E domani invece una passeggiata con i lama, quella non vedo l'ora assolutamente. Però la mattina faremo anche un giro con gli sci di fondo. Ah, lì ci siamo un po' più preparati sugli sci di fondo. Beh, diciamo che ne l'abbiamo provato solo una volta in Lapponia finlandese, però vedremo come ce la caperemo domani. Vedremo, vabbè, domani vi racconteremo. Io peraltro ho appena mangiato un Tirolel Grostl, non so se conoscete questo piatto. In pratica sono delle patate saltate in padella con wurstel, con carne, speck e un uovo sopra. A dir poco delizioso, quindi sto riprendendo un pochino le forze con il cibo tradizionale tirolese. E qualche chilo sta prendendo. Ma sì, ma tanto ho qui vicino alla nutrizionista che mi rimetterà in sesto a rientrare a casa. Mi raccomando, continuate a seguirci perché ne vedrete delle belle. Ciao! 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 Grazie a tutti